Stiamo vivendo una settimana molto calda sul fronte delle banche centrali, la decisione della banca centrale europea giovedì, così com'è sul fronte macroeconomico il PIL USA. Cosa fare in borsa? Comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Rimaniamo sempre sul mercato americano, sempre sul settore tecnologico, sempre una bella carta verde, siamo su una delle azioni più martoriate, più chiacchierate degli ultimi mesi a Wall Street, una bella carta verde su Meta Platform ex Facebook. Ah, una di quelle realtà proprio che sta per diffondere i dati, l'aveva a memoria indicata come strategia rialzista anche Enrico Lanati scorsa settimana, beh rispetto ad allora forse un po' di miglioramento proprio negli ultimi giorni stiamo vivendo da un punto di vista tecnico, tu dove stai andando a posizionarti? Guarda, dal punto di vista tecnico io ho un ingresso a 135 con uno stop loss a 130 dollari per azione, un target a 155, quindi questa è la mia operazione di trading, la mia visione però su Meta è molto più di lungo termine e a mio avviso oggi a questi livelli, a questi prezzi da circa meno 66% dai massimi storici rappresenta davvero una grande opportunità di investimento. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti